Puoi dare al povero del cibo, dei vestiti, un letto pulito e una coperta calda, puoi dare al povero un abbraccio, ma se leggi con il povero la parola di Dio forse avrai fatto il regalo migliore, quello che gli permetterà di trovare il sorriso, la forza, la leggerezza, l'impegno e la cura necessari ad affrontare le difficoltà, ad abbracciare altri che soffrono e a cercare soluzioni magari diverse da quelle che aveva immaginato. È qualcosa che accade e che è accaduto davanti a noi e sta accadendo ogni sera, quando Telepace trasmette il commento al Vangelo registrato nei servizi Caritas del territorio con i pensieri dei volontari e di persone che ogni giorno quegli stessi volontari incontrano nei centri di ascolto, in carcere, nel dormitorio diocesano e più in generale in un rapporto e in una relazione che si intreccia giorno dopo giorno. Spesso purtroppo ci relazioniamo e pensiamo che ciascuno di noi vale per quanto ha. Questa parabola ci ricorda che noi valiamo per quanto restituiamo, per Dio chiunque di noi può restituire e anche come Chiesa sarebbe bello se imparassimo a non pretendere, avere la presunzione che siamo quelli che abbiamo ma che nella nostra vita incontriamo tanti fratelli e sorelle, chiunque, anche chi è più in difficoltà, chi vive un tempo di malattia, di solitudine, di povertà, può restituirci qualcosa di prezioso. Ci sono riflessioni che emergono e che riguardano il servizio svolto ogni giorno. Prendersi cura però non significa guarire, anzi spesso implica l'accompagnare, il far sentire una presenza, uno sguardo di bene. Quello che tu metti a disposizione ricevi il doppio. Ma ci sono anche i pensieri di chi quei servizi incontrano, ci sono anche i pensieri di chi nella vita ha incontrato quell'abbraccio, ci sono i pensieri di chi in questa occasione ha potuto leggere con i volontari la parola di Dio. Lo scandalo che tu causi danneggia prima di tutto te e le tue relazioni, soprattutto quelle più delicate, fragili, piccole. Nella vita si sbaglia, è inevitabile, ma se sbagliamo dobbiamo imparare a fare una strada diversa. Ogni persona è unica, ogni persona è unica agli occhi di Dio e deve mettere a servizio, ogni persona ha il suo talento, deve mettere a servizio agli altri. Mi ha colpito moltissimo e sono contento di essere qua e vi ringrazio. Spero che molti si riuniscano con voi per parlarne sempre di più. Grazie.